La Sanità Toscana fa un passo avanti verso le persone con disabilità. Si chiama appunto PASI, il programma realizzato dalla Regione in collaborazione con le associazioni per disabili per favorire l'accesso di quest'ultimi alle cure, come fare un prelievo o una visita specialistica. La Toscana è la prima Regione italiana a mettere a punto un progetto di questo genere, che unisce politiche sociali e sanitarie. Stiamo realizzando dei percorsi all'interno della sanità fatti a misura di persone con disabilità. Più volte abbiamo dovuto constatare che i nostri servizi sanitari non sono adeguati nella capacità di rapporto per le persone con disabilità, soprattutto quella disabilità intellettiva. La Regione ha pensato a ospedali e pronto soccorso a misura di persone con disabilità, a una piattaforma web per registrare i bisogni speciali, ad agende dedicate sia per le visite specialistiche che per la diagnostica. Il progetto prevede anche la formazione del personale che seguirà i pazienti con disabilità.